Il 25 aprile del 1945 il popolo italiano gridò ad alta voce finalmente liberi, il mostro nazifascista era stato sconvitto. Da allora cominciò la ricostruzione del nostro paese e così nacque la festa della libertà. Oggi a causa di questa tragedia che ha investito non solo il nostro paese non possiamo farlo, stiamo nelle nostre case. Dobbiamo dire a tutti di continuare la vigilanza democratica nonostante il dramma che attraversiamo perché è necessario oggi più che mai. Viva la resistenza! Grazie!